E' l'ultima novità in fatto di truffe telematiche. Sembra una bolletta di fornitura elettrica ed invece è un virus che ti blocca il computer o il telefono cellulare. Nelle caselle di posta elettronica di migliaia di consumatori stanno arrivando quelle che, ad uno sguardo poco attento, sembrano normali bollette dell'Enel, con tanto di importo, codice cliente, codice fiscale e quant'altro. Tutto assolutamente falso. La mail invita a scaricare la finta bolletta ma se lo si fa invece si spalancano le porte ad un virus capace di bloccare i dati del computer ed a quel punto per sbloccarlo si deve pagare un riscatto. Una truffa vera e propria. Allora come Enel voi siete a conoscenza di queste mail che stanno arrivando su cellulari, su mailbox, insomma questo è a vostra conoscenza? Sì, siamo a conoscenza, alcuni clienti ce l'hanno già riferito, sono arrivate persino noi, sia me che alla mia collega. Sono mail che inducono a cliccare su link o ad aprire allegati che, eludendo i controlli degli antivirus, si installano poi i virus stessi nel PC, contengono dei dati falsi, quindi dal numero cliente ai consumi, tutto quanto, è tutto falso. Questo tentativo di phishing, così si chiama questo tipo di truffa, non è il primo. Tempo fa arrivavano false mail con il logo delle poste italiane chiedendo codici e numeri di conto e oggi, come allora, Enel precisa che le sue procedure non prevedono in nessun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari o codici personali. La raccomandazione, perciò, è quella di non cliccare sul link segnalato nella mail e che a disposizione degli utenti ci sono i numeri verdi 800-900-800 oppure 800-900-860. Offrite assistenza quanti, o per questo motivo o per altri, vogliono venire qui da voi e avere un contatto diretto? Esatto, poiché il frontespizzo della bolletta è diverso, le persone, i clienti collegano le due cose che invece non hanno veramente nulla a che fare.